Per etichetta, l'etichettatura è strategica per far capire il tipo di prodotto che abbiamo di fronte, in quanto informa il consumatore sulle caratteristiche del prodotto che sta acquistando, consentendogli di scegliere quello che è un punto importantissimo, l'etichettatura di un prodotto alimentare ha un ruolo strategico in quanto informa il consumatore sulle caratteristiche del prodotto che sta acquistando, consentendogli di scegliere quello che maggiormente risponde alle proprie esigenze. Quindi queste considerazioni sono importantissime, perché basta che sull'etichetta c'è qualcosa che corrisponde alle esigenze del consumatore, ma che poi non viene soddisfatta e questo è evidentemente una frode a tutti gli effetti. Per etichettatore si intende l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei macchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che riferiscono ad un prodotto alimentare. L'etichetta rappresenta quindi una sorta di carta di identità del prodotto un ponte tra il produttore e il consumatore e per questa sua funzione deve essere redatta in modo chiaro ed esaustivo, oltre che veritiero. Quindi non ci sono margini per poter sbagliare. Non va dimenticato infine che l'etichetta è uno strumento di marketing quando, come spesso accade attraverso la comunicazione scritta o visiva, essa riesce a comunicare particolari requisiti o sensazioni o performance dell'alimento, orientando le scelte di acquisto del consumatore. In effetti se un'etichetta riporta poi certe indicazioni e non vengono soddisfatte queste etichette, quindi evidentemente andiamo, stiamo orientando male il consumatore. Gli vuoi chiedere, quindi vorrei sempre, ma se è quello che ha detto lui, quando un prodotto, su un prodotto c'è scritto prodotto da agricoltura biologica, prodotto biologico, ma allo stesso tempo non c'è nessun marchietto di ente certificatore biologico, vuol dire che comunque... Si sta ingannando il consumatore, sì sì sì, assolutamente sì. Quindi si vanno a ledere, quelli che sono dei requisiti che inconsciamente il consumatore si aspettava, perché quando chiede un video biologico si aspetta già qualcosa di biologico, è tutto quello che ne concerna. Se poi a questo non seguono i fatti, evidentemente non allese un po' quelle che sono le aspettative del consumatore. Possiamo dunque riassumere le principali finalità dell'etichettatura, come seguono? fornire una corretta informazione sulla caratteristica del prodotto, non indurre in inganno il consumatore su caratteristiche o proprietà che il prodotto non possiede, se noi diciamo che è biologico ci aspettiamo alcune proprietà particolari. Poi magari andiamo a vedere che ci sono dei contaminanti, quali pesticidi o all'aggiunta o qualcosa di meno grave, magari di... no, no, vabbè, lo so, ma bisogna... no, no, assolutamente, perché lei doveva in origine fare le valutazioni del caso per poter mettere il prodotto sul mercato? Non esiste. Cioè non possiamo... non ci si può nascondere dietro il fatto della propria buona fede e la cattiva fede degli altri, cioè anche noi dobbiamo operare i controlli necessari al finché il prodotto che entra sul mercato, quindi quello che facciamo parte della rintracciabilità, deve garantire certe caratteristiche. eh sì... no... no, non ci può essere... no, non può esistere questo fatto non voluto. Allora, perché nel momento stesso in cui noi diciamo che il prodotto è biologico, si suppone che ci siano stati controlli e che quindi a seguito della commissione che è controllata il prodotto... sì... ma se per esempio c'è... c'è una contaminazione eventuale, ma il prodotto è certificato biologico... vabbè, lì si ha... chi ne risponde, l'ente certificatore? no, sempre... perché è l'ente certificatore che comunque garantisce il prodotto. sì, in effetti dovrebbe garantire, però bisogna definire prima, a parte che l'ente certificatore toglie la certificazione immediatamente all'azienda che dovrebbe essere certificata, ma che non risponde a quei requisiti, ma poi bisogna valutare come effettivamente sono stati condotti i controlli, quando poi è successo, se prima o dopo, eccetera, dell'ispezione? mi sorge una domanda, ma se l'ente certificatore biologico fa un controllo all'anno, o anche meno, come di solito fanno gli anticertificatori, cioè come può, non lo so, prendersi questa... eh, lo so, in questo caso, cioè la colpa ricade sempre sul produttore che mette sul mercato del prodotto, questo è ovvio. Quindi non indurre in inganno il consumatore su caratteristiche o proprietà che il prodotto non possiede, valutare correttamente il rapporto tra la qualità del prodotto e il prezzo di vendita, garantire la correttezza delle operazioni commerciali, ecco la risposta, nonché la libera circolazione dei prodotti alimentari sui mercati comunitari e internazionali, promuovere commercialmente il prodotto. Ancora, evoluzione della normativa nazionale e comunitaria, il regolamento c'è sulla rintracciabilità rappresenta la legge quadro vigente, ma che sicuramente è stata aggiornata, di diritto alimentare comunitario. Il regolamento individua tra gli obiettivi dell'Unione Europea la costituzione di una base comune per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che utilizziamo e per prevenire qualunque pratica fraudolenta in grado di indurli in errore. Queste direi che le parole chiave della normativa sull'etichettatura sono evitare pratiche fraudolenti in grado di indurre in errore il consumatore. L'Unione Europea ha disciplinato per la prima volta l'etichettatura degli alimenti con l'emanazione della direttiva 112 del 79 del dicembre 1978, relativa al riavvicinamento della legislazione degli Stati membri concedendo l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinato al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità. La direttiva 79-112 è stata recepita in Italia con il DPR 322 dell'82 e successivamente dal decreto legislativo 109 del 92, la quale ha abrogato il DPR precedente. Tutte le disposizioni in materia di decettatura, di presentazione di pubblicità dei prodotti alimentari e relative in modalità diverso e incompatibili con quelle previste dal decreto ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti. A seguito delle numerose modifiche apportate dalla direttiva 79-112, che ne rendevano difficile l'applicazione, nel marzo del 2000, l'Unione Europea, quindi anche successivamente con il 1969 del 2011, ha applicato una nuova direttiva 2013, adesso superata, con il decreto 181 del 2003, che ha apportato una serie di modifiche, ma che in pratica è rimasta uguale, tranne in alcuni punti che adesso vedremo comunque insieme. E' stata sicuramente integrata dalla direttiva allergeni, recibita in Italia col decreto legislativo 114 del 2006, dal titolo attuazione della direttiva 2003-89-2004-77 o 63-2005, in materia di di indicazione sugli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. L'ultimo atto di evoluzione armativa in termini di etichettatura è quella, questa qua, in cui vengono ripresi gli stessi argomenti, ma che vengono specificati in alcuni punti. elenco delle indicazioni obbligatorie sull'etichettatura, la denominazione dell'alimento, e vedremo adesso che significa questo, l'elenco degli ingredienti, questo è rimasto praticamente uguale, qualsiasi ingredienti o quadriurante tecnologico elencato nell'allegato 2, la quantità di taluni ingredienti o categorie, la quantità netta dell'alimento, il tempo minimo di conservazione o la data di scadenza, vedremo un po' che cosa significa, le condizioni particolari di conservazione o alle condizioni di impiego, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, il paese di origine e il luogo di provenienza o per previsto, le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento, per le bevande che contengono più dell'1,2% di alcol in volume, il titolo alcolimetrico volumico effettivo e infine una dichiarazione nutrizionale che invece non era presente in precedenza, adesso è diventato obbligatorio in pratica e entrerà in, sarà obbligatorio praticamente dal dicembre 2016 e quindi dovranno riportare tutte le indicazioni nutrizionali del caso. Quindi la dichiarazione nutrizionale obbligatoria rega le indicazioni seguenti, il valore energetico, la quantità di grassi, nonché grassi saturi, carboidrati, nonché zuccheri, proteine e sale. Il sale è riferito all'NACL, cloruro di sodio. Ma questo tipo di valori nutrizionali è indicato su standard, che ne so, la marmellata di ciliega deve avere così? No, uno va in un laboratorio di analisi, fa queste analisi e quelle mette. Sì, poi naturalmente le indicazioni nutrizionali sono un po' un vestito su misura della nazione, voglio dire, o il continente. In Italia o nell'Europa ci sono certe indicazioni, per esempio invece in America le condizioni sono un po' diverse, perché lì richiedono oltre che le indicazioni nutrizionali anche la quantità minima per giornaliera, quindi va a fare il calcolo anche sulla porzione giornaliera. E quindi diciamo che è un po' diverso. Poi ci sono delle indicazioni, come vedremo, nutrizionali, quali gli acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi poliinsaturi, polioli, amidi, fibre, eccetera, che non sono obbligatori, ma sono volontari. Queste si possono porre, ma non porre. Quelle di prima invece sono complessivamente sono obbligatorie. Quindi ecco l'ultimo atto, ne abbiamo parlato, dell'evoluzione della normativa in essere. Quindi bisogna aggiornare qui la 1169, come la 11. Sì, 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 è quello che vi sto facendo con qua. Con tutte le sottolineature del caso, eccetera. Sì, anche perché così posso seguire pure l'idea perché non è. Allora, il campo di applicazioni, il campo di applicazione del decreto legislativo 1922 è rappresentato da tutti i prodotti alimentari venduti sfusi, preincartati e preconfezionati o destinati al consumatore sul mercato nazionale. Si intendono per prodotti sfusi, tutti quei prodotti, le definizioni, praticamente queste informazioni di carattere generale sono rimaste le stesse. Prodotti sfusi, tutti quei prodotti alimentari sui quali non è possibile apporre le etichette in quanto privi della confezione, per esempio di frutta, ortaggi, freschi, eccetera. Prodotti preincartati o preconfezionati per la vendita immediata, tutti quei prodotti alimentari confezionati sul luogo di vendita al momento della richiesta del cliente o antecedentemente, ma ai fini della vendita immediata, nello stesso locale dove sono stati confezionati, il pane, la carne, fresca, formaggi e salumi al taglio. Anche se comunque resta il fatto che il venditore o l'intermediario deve avere tutte le informazioni necessarie. Specialmente per esempio il pesce bisogna riportare la zona di provenienza, zona A, B, eccetera. Prodotti preconfezionati o preimballati, tutti quei prodotti alimentari confezionati in assenza dell'acquirente ed avvolti totalmente o in parte in un imballaggio che deve essere mantenuto integro fino al momento del consumo. I tranci, per esempio, di grana, eccetera, sono preconfezionati e quindi riportano tra l'altro le stesse caratteristiche del prodotto di origine. Questa distinzione è fondamentale per stabilire come deve essere etichettato il prodotto. Ai prodotti preconfezionati infatti si applicano i requisiti previsti dall'articolo 3 del 109-92 che è ancora in esse, illustrati al capitolo 6. Ai prodotti sfusi e preincartati invece, esempio, un formaggio come per esempio il parmigiano reggiano può essere venduto, ecco, venduto in spicchi preconfezionati dal produttore oppure preincartato, con film protettivo, applicato dal punto vendita per la commercializzazione immediata. Il primo caso, riede nel caso dell'applicazione dell'articolo 3, cioè deve riportare le indicazioni del lotto di origine, eccetera, eccetera. Il secondo no. Poi, sono escluse dal campo di applicazione i prodotti alimentari destinati alla ristorazione, ma non i prodotti commercializzati dagli operatori che la gesticono. Ad esempio, una cassetta di frutto o un lotto di bottiglie di olio di oliva consegnata ad un mensa, sono prodotti che devono essere etichettati in conformità della 109-92. Poi, i prodotti destinati al commercio extra-UE, in quanto le etichette devono essere realizzate in conformità alla normativa del Paese importatore. Ancora, principi generali ancora nella normativa sono, quindi quelli che sono richiesti sono, i principi fondamentali sono chiarezza, le indicazioni devono risultare facilmente comprensibili, per un consumatore medio e non in generale i dubbi, questo è un concetto che abbiamo visto prima. Leggibilità, le informazioni devono essere riportate in carattere di dimensioni tali a poter essere lette, molto spesso si vede un certo etichetto in caratteristiche, molto piccole e questo è un modo per creare confusione e difficoltà da parte del consumatore nell'interpretare esattamente le caratteristiche e questo può essere un motivo perché si possa contestare. A tale scopo, per taluna tipologia di informazione, ad esempio, la quantità nominale e il legislatore ha definito la dimensione minima dei caratteri, come vedremo, la quantità nominale è diversa dalla quantità netta di prodotto e questo deve essere chiaramente riportato con dimensioni minima dei caratteri, al di sotto i quali non è possibile scendere perché si può indurre il consumatore in errore, perché la quantità nominale ha particolare importanza. Vedremo poi che significa. Facilità di lettura, alcune indicazioni obbligatorie devono essere riportate nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente leggibili in una sola occhiata. Inoltre bisogna evitare di riportare informazioni in punti nascosti di difficile lettura o rimovibili, è sempre il sigillo di confezionamento. Quindi il caso di cui si parlava prima, etichetta molto piccola, non conforme a quelle che è la legislazione sull'etichettatura, perché il consumatore viene tratto in inganno da informazioni insufficienti e che quindi non danno l'idea chiara di che tipologia di prodotto è. Quindi se viene fatto un'etichetta piccola non completa è stata fatta obbligatoriamente, quindi bisogna legare un'etichetta vicino, ripiegabile o eccetera. C'è talvolta che anche per marmellato, mieli di piccole dimensioni vengono preincartati in una confezione di cartone esterno che li contiene al loro interno, perché è per aumentare allo spazio l'esposizione dell'informazione. Quindi bisognerebbe allegare vicino qualcosa in modo da garantire che quelle informazioni che stiano sull'imballo primario e stiano anche sull'imballo secondario. Ah, quindi alcune di quelle informazioni obbligatoriamente devono essere sia sull'imballo esterno No, pensavo che il produttore avesse messo sull'esterno e non l'avesse messo sull'interno. No, è quello che io mi sono posto a questo dubbio, perché mi capita di vedere dei barattoli, non so, un barattolo di marmellato o di confettura, che è richiuso all'interno di una scatola di cartone, quindi con una finestrada per far vedere più il logo commerciale. Ma sull'imballo esterno c'è la... Sull'imballo esterno essendoci più spazio, tutto attorno, essendo un cubo, ha tutte le informazioni. Ok, va bene. Non è detto che però il barattolo internamente abbia queste stesse informazioni. Allora, siccome suppongo che il cartone porta il sigillo, a questo punto se all'interno... Ok, perfetto. Quindi avendo il sigillo il prodotto garantisce le informazioni sulla parte esterna, poi uno prende e butta via la scatola di cartone e mantiene il barattolo, che penso che abbia l'obbligatorietà della data di scadenza, come gli yogurt che vengono incartati nel cartone. Esatto. E lo stesso concetto, lo yogurt ha bisogno della carta esterna. Non avevo capito che c'era anche il cartone esterno. No, no, il cartone esterno, proprio per questo fatto, un doppio packaging per dare le informazioni nell'unità esterna, diciamo, proteggerlo perché è vetro, e invece, diciamo, il baratto all'interno di vetro più marketing, più commerciale, perché ha una finestrada sul cartone esterno. Sì, 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 ok, va bene. Nel senso che in questa maniera viene tutelato in consumatura perché c'è il sigillo che garantisce che il contenuto interno si riferisce all'etichetta che è sull'esterno, ok, sì, in questo caso sì. Perché evidentemente, visto il pregio e il costo del prodotto, si fornisce una minima porzione, va bene, perché... Sì, 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 ok. Ok, infatti, non avevo capito che c'era questo fatto. Sì, ok. Però bisogna fornire, l'albergo deve fornire tutte le... Sì, sì, sì. Quando uno apre l'esterno, in realtà, è sicuro che sta aprendo anche quello che sta all'interno. Allora, indicazione obbligatoria, campo visivo, insomma, nello stesso campo visivo dobbiamo trovare noi denominazione di vendita, termine minimo di conservazione o data di scadenza, quantità e titolo alcolometrico, se lo possiede. Il campo visivo fa coltivativamente diverso, elenco degli ingredienti, sede o indirizzo, nome o ragione. Attenzione che questo sta parlando del campo visivo, non sta dicendo che le posso mettere da altra parte. Avanti, dietro magari. Se il... con i tenitori piccolini di cui stavamo parlando non fosse accompagnato dall'imballaggio primario, evidentemente non si poteva dare solo denominazione di vendita, termine minimo di scadenza e quantità, ma magari dietro doveva riportare questa indicazione. Invece in questo caso è successo che riporta magari denominazione di vendita, termine minimo di scadenza e quantità e sull'imballo primario ci sono tutte le altre cose. Elenco degli ingredienti, sede o indirizzo dell'azienda, nome, ragione sociale o marchio, sede dello stabilimento, lotto e altre informazioni previste per particolari tipologi di prodotti, istruzioni di us, valori nutrizionali, eccetera. Comunque questo deve essere sempre associato all'altro documento. Segnaliamo che comunque queste cose sono rimaste praticamente integre, sono cambiate alcune cose di cui di momento in momento vi farò vedere. Tra le principali novità che saranno introdotte, che è quelle che vi ho detto prima, l'obbligo di apporre l'etichetta nutrizionale, un'altezza minima di carattere non inferiore a 3 mm, l'obbligo del contrasto significativo, cromatico e luminoso delle diciture obbligatorie rispetto allo sfondo. Le diciture facoltative inoltre non devono sottrarre spazio a quelle obbligatorie, in modo da non creare confusione nel consumatore. L'altezza è riportata nella 1069, riporta i millimetri. La lingua, importante perché prima stavamo parlando della lingua, le indicazioni riportate sull'etichetta dei prodotti elementari destinata alla commercializzazione sul mercato nazionale devono essere in lingua italiana e consentite all'utilizzo di altre lingue solo se il termine è diventato di uso talmente corrente e generalizzato da non richiedere traduzione. Croissant si può portare in italiano perché noi sappiamo che va a denominare di un prodotto da forno tipico. La menzione originale non hanno corrispondenti nei termini italiani, per esempio del brandy, uno quando parla brandy quindi lo scrive evidentemente in francese sa che si riferisce a quel tipo particolare di liquore e quindi non c'è bisogno di traduzione. I produttori hanno facoltà di utilizzare altre lingue ufficiali della comunità europea ma in aggiunta e non in sostituzione della lingua originale italiana per esempio. Quindi magari dobbiamo esportare in inglese e possiamo mettere la traduzione in inglese che accompagna quella italiana. I prodotti destinati al mercato comunitario devono riportare le informazioni nella lingua del paese di commercializzazione. anche in questo caso altre lingue ufficiali della comunità europea possono essere riportate ma in aggiunta e non in sostituzione. Nei casi in cui i prodotti alimentari siano destinati al mercato italiano ma non al consumatore finale, per esempio operatore della ristorazione, ristorante, catendi, catering, non vi è l'obbligo di utilizzare l'utilizzo della lingua italiana e le informazioni possono essere riportate anche solo in lingue del paese di origine. Si vede questa circolare eccetera. Etichettatura dei prodotti preconfezionati. Le etichette dei prodotti alimentari preconfezionati devono obbligatoriamente riportare le seguenti indicazioni. Denominazione di vendita, l'elenco degli ingredienti, la quantità netta o la quantità adesso li vedremo uno per uno questi punti, la quantità netta o la quantità nominale, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, vedremo le differenze, il nome o la ragione sociale o gli marchi depositati e la sede del fabbricante o del confezionatore di un venditore stabilito nell'Unione Europea, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, il titolo alcolimetrico, volumico e effettivo per le bevande che hanno un contenuto in alcol superiore all'1,2%, il lotto di appartenza del prodotto, le modalità di conservazione o e o e utilizzazione, qualora sia necessario, ancora il luogo di origine e di provenienza nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente e le quantità di tali ingredienti che come vedremo ha un'importanza strategica, perché basta menzionare un ingrediente in particolare, quindi il consumatore deve poter discernere tra prodotti di aziende diverse poste sullo scala affale, in modo che lui debba poter confrontare quale è più conveniente anche in corrispondenza di prezzi. Sì, chiaramente, qui c'è da aggiungere anche gli allergeni, che sono effettivamente venuti dopo. Allora, denominazioni di vendita, che è diversa dalla denominazione commerciale, che andremo a vedere. La denominazione di vendita deve corrispondere in prima istanza a disposizioni comunitarie nazionali, ovvero alle leggi che disciplinano i requisiti di composizione e caratteristiche finali del prodotto. In assenza di tali disposizioni, la denominazione di vendita può essere costituita dal nome tradizionale consacrato dagli usi e dalle consuetudini con riferimento al mercato dal quale il prodotto è destinato. in Italia, per esempio, rientra in queste categorie di prodotti il gelato, il terrone, che non ha bisogno di altre specifiche, perché sono dei prodotti tipici. Quindi questi prodotti non hanno una disciplina giuridica che ne regola la composizione o le caratteristiche, perché si sa che il pesto è costituito da… se poi andiamo a scrivere il pesto a base di noci, allora dobbiamo specificare le caratteristiche, la quantità di noci presente nel nostro prodotto. Ma quando noi pensiamo a pesto, stiamo parlando del pesto genovese che ha quelle caratteristiche. Quando a base di noci dobbiamo chiarire qual è adesso la composizione in termini di noci, perché il consumatore quando vede sullo scaffale pesto a base di noci dice c'è le noci in questa composizione. Quando vede pesto, pesto, allora confronta due pesti che dovrebbero avere la stessa composizione. Secondo il macchio che è stato il brevetto depositato. Siccome Parra dice consacrato dagli usi e dalle consuetudini, quindi io magari posso fare un gelato che proprio non rientri nelle… Sì, se non rientro lo devo definire in termini specifici, chiaro. In caso eccezionale o in mancanza di una denominazione legittimata da usi e consuetudini si può ricorrere alla denominazione di fantasia in salata russa, tartufone, le quali però devono essere accompagnate da una discrezione sulla natura del prodotto, al fine di non in generale confusione nel consumatore, che è un po' quello che chiedeva. In ogni caso la denominazione di vende non possono essere sospite da un marchio di fabbrica o di commercio. Sì. Allora, poniamo al caso che io una mattina decido, anziché fare i miei succhi di frutta, chiamando i succo di frutta, di mera, di pera, di arancio, io li chiamo i smoothie, quindi centrifugati. Utilizzo il nome americano, perché è un nome commerciale che magari mi tira, mi fa un po' più di marketing, cioè li posso utilizzare e poi devo scrivere a base di succo, di frutta, di mera, di pera. Così sì. Così sì. Perché li devo andare poi a specificare, perché quello che faccio, prendo un marchio che non è consacrato, però poi... Lo devo creare, lo devo consacrare, diciamo, devo dire, è a base di un centrifugato di frutta, di succo di frutta. Esatto. Però lo posso utilizzare come nome commerciale, coltato fuori. Sì, devo andare a specificare quella che è la descrizione del prodotto, le caratteristiche, eccetera. Perché altrimenti se io non metto nessuna indicazione sullo smoothie, per esempio, che è un prodotto americano, il consumatore pensa a quello tipo di composizione. Non lo posso utilizzare come nome americano. Sì, però deve riportare. Non lo posso utilizzare come nome americano. Sì, specificando però. Se una denominazione di vendita tradizionale in un paese non è in grado di consentire, il consumatore finale residente in un paese estero, di capire l'effettiva natura del prodotto, essa deve essere accompagnata da ulteriori informazioni riportate in prossimità della stessa, che ne facilitano la comprensione per il consumatore finale. E' un po' questo prodotto qua. Un produttore italiano di torrone interessato ad esportare il proprio prodotto al di fuori dell'Italia dovrà riportare a fianco alla denominazione di vendita una breve descrizione del prodotto, ad esempio preparazione di olciaria a base di zucchero e mandorle. per esempio, denominazione di vendita regolamentata a livello europeo, olio di oliva, descrizione, olio ottenuto dal taglio di olio di sans e di oliva raffinate di olio di oliva vergine, diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità espresso in acido oleico non superiore all'un grammo per cento e avente le altre caratteristiche conforme a quelle previste dal regolamento CEA 1234-2007. Ancora, quando io parlo di pasta di semolo di grano duro, io sto parlando di un prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamente di impasti preparati esclusivamente con semolo di grano duro ed acqua. Ancora, i prodotti alimentari che sono commercializzati in un particolare stato fisico, per esempio prodotti suggelati, liofilizzati, concentrati, affumicati e via dicendo, devono riportare obbligatoriamente questa caratteristica accanto alla denominazione di vendita. Se la denominazione di vendita del paese di produzione non corrisponde a quella del paese di commercializzazione, essa deve essere completata da una dicitura che ne evidenzi le differenze rispetto all'analogo prodotto nazionale commercializzato con quella denominazione. Per esempio, la denominazione di vendita birra è attribuita in Italia alla bevanda realizzata con malto d'orzo e con l'eventuale aggiunta di altri cereali nel limite del 40%. In Germania, dove la birra, in Germania invece, si può commercializzare con la denominazione di birra solo la bevanda ottenuta interamente da malto d'orzo. Quindi, come vi capito, c'è una differenza. Le aziende italiane produttrici birra interessate ad esportare i loro prodotti in Germania dovranno pertanto riportare in etichette il riferimento all'uso dei cereali utilizzati. Perché in Italia noi possiamo ottenere la birra anche con miscele di cereali. Invece lì, che è solo di malto d'orzo, si potrebbe creare una confusione. La denominazione di vendita aranciata è attribuita in Italia al prodotto contenente una percentuale non inferiore al 12% di succo d'arancia. I prodotti provenienti dalla Spagna, invece, possono contenere anche solo il 2% del succo d'arancia. Pertanto, per poter essere commercializzati nel nostro Paese, dovranno cambiare denominazione e o riportare in etichetta la percentuale di succo effettivo utilizzato. Non so se è chiaro il concetto. Però purtroppo non sempre effettivamente questo viene effettuato, quindi si possono creare delle confusioni. Infine, si può verificare anche il caso in cui un alimento realizzato in conformità ai requisiti produttivi della normativa nazionale rappresenta per la normativa di un altro Paese un prodotto di qualità superiore. Questo è molto interessante. E per tale ragione può essere rappresentato in maniera diversa sul mercato. E questo è il caso della pasta. La legge francese, ad esempio, consente di utilizzare nella denominazione di vendita delle paste alimentari un riferimento alla qualità superiore del prodotto se in presenza dei requisiti fissati dalla nostra normativa. Questa è la DPR 187-2001 relativamente alla pasta di semolo di granulù. Pertanto un prodotto denominabile in Italia pasta di semolo di grano duro in Francia si chiamerà la Patesse alimentare di qualità superiore. Perché effettivamente c'è, in questo caso, perché lì è consentito l'utilizzo di pasta di semolo di grano tenero. E quindi, di conseguenza, siccome la nostra è di grano duro, c'ha questo superiore. Per questo vale anche per il mercato spagnolo, perché il tenore proteico raggiunga l'11% e non si fermi al 10,50%, come è previsto dal DPR 187-2001. In questo caso la pasta di semolo di grano duro potrà essere commercializzata sul mercato spagnolo con l'aggiunta dell'addizione pasta alimentare di qualità superiore. È evidente che questo rappresenta una grossa opportunità di marketing per le nostre aziende del settore. denominazioni commerciali, che non bisogna confondere con quella di vendita. Le denominazioni commerciali, a contrario della denominazione di vendita, sono facoltative e servono in cambiamento a qualificare meglio il prodotto. Nel comparto delle paste alimentari, ad esempio, la denominazione di vendita è pasta di semolo di grano duro, mentre la denominazione commerciale è rappresentata dall'indicazione spaghetti, fusilli, farfalle e via dicendo. Un altro caso può essere osservato nel comparto dei latticini. La denominazione di vendita è formaggio fresco a pasta filata, mentre la denominazione commerciale è fior di latte, mozzarella e via dicendo. Questo è anche un caso in cui la denominazione commerciale è diventata più famosa della denominazione di vendita, tanto che da evocare a essa stessa le caratteristiche del prodotto finito. Denominazioni prodette, vabbè qui abbiamo le DOP, le GP, queste vanno riportate, elencazione degli ingredienti. Le etichette devono riportare l'elenco di tutti gli ingredienti utilizzati per la realizzazione dell'alimento. Sono escluse i vini, la birra e i distillati. I prodotti costituiti da un solo ingrediente, l'olio extraverso di oliva, e nei quali la denominazione di vendita coincide perfettamente con il prodotto. Gli ortofrutticoli freschi, gli ingredienti di un ortofrutticolo è sempre non sottoposto da alcuna manipolazione. Scusi, quando parla di manipolazione intende anche, per esempio, la quarta gamma è una manipolazione? No, lì bisogna riportare però quarta gamma. Già di per sé indica che è stata fatta un'operazione di pulitura, lavaggio e quindi di taglio. In questo caso non c'è da riportare gli ingredienti. A meno che, certo che se poi si va a riferire a un mix di ortofrutta, va riportato quali intervengono nella... Non c'è mai, ok. Le acque gassate che riportano l'eventuale aggiunta di un altro ingrediente nella denominazione di vendita, per esempio acqua con aggiunti di anise carbonica. In questo caso va aggiunta perché magari l'anise carbonica non è quella derivante dalla sorgente. Gli aceti provenienti da una sola materia prima, il latte fermentato, creme di latte fermentato, formaggio e burro, purché non contenenti prodotti in natura diversi dal latte, quali per esempio sali, enzine, eccetera, che invece vanno riportati. Gli ingredienti devono essere menzionati in ordine ponderale, questa è un'altra cosa importantissima. Cioè, gli ingredienti che sono presenti in un alimento vanno riportati in ordine di quantità. Quello è presente in maggiore quantità, il primo, poi via via a decrescere. Partendo quindi dalla ricetta e non dall'alimento finito, devono essere precedute dalla parola ingredienti. Gli ingredienti devono essere menzionati con il loro nome effettivo, ad esempio farine di grano duro oppure ricordando la denominazione di vendita legale, amaretto, eccetera. Questa è la seconda possibilità, tutta la riembra, solo se anche a seguito del processo di trasformazione, tale ingrediente mantiene le caratteristiche previste dalla legge. Ancora, ingredienti... Ah, ecco, adesso parliamo dell'ingrediente composto. Per ingrediente composto si intende un ingrediente utilizzato per la realizzazione di un prodotto, che a sua volta è composto da più ingredienti. Come ci dobbiamo comportare quando lo dobbiamo riportare in etichetta? L'ingrediente composto deve essere riportato in etichetta nella lista degli ingredienti, menzionato con la propria denominazione di vendita. Esempio, croissant ripieno. Ingrediente composto ripieno a base di marmellate di arancia. Allora, dobbiamo specificare che cos'è questa marmellate di arancia. Quindi scriviamo, l'ingrediente corretta degli ingredienti, ingredienti di farina di grano tenero, tipo zero, grassi vegetali, zucchero, uova fresche, marmellate di arancia. A questo punto va, l'ingrediente composto va esplicitato, zucchero, succo di arancia concentrato 1,8%, pectine. Chiudiamo parentesi e quindi scriviamo poi gli elementi in piccola concentrazione, sale e aromi naturali. Ovviamente, se le quantità, come vedremo, eccola qua, un'altra cosa importante, gli ingredienti, se gli ingredienti sono inferiori all'1,5%, non c'è bisogno di scrivere. Per esempio, aromi naturali si suppone che se fosse superiore all'1,5% dovevo riportare la percentuale, ma siccome lo sono inferiore a quantità, io non vado a riportare la percentuale. L'indicazione degli ingredienti, di un ingrediente composto, può essere omessa solo se questa rappresenta meno del 2% del peso del prodotto finito, non condiene ingredienti di natura allergenica ancora. quindi è eliminata, eh sì, questa non esiste più, per tanto abolita la vecchia regola, la quale era possibile non indicare i singoli ingredienti, degli ingredienti composti quando essi non superavano il 25%, questa è oramai obsoleta. Prima era questa, sì. Quid, qui stiamo parlando 2001, perché quindi era possibile fare questo, questo insieme di slide praticamente risale al 2009, quindi 2001 era possibile. Quid, qualitative ingredient declaration, si intende l'indicazione nella lista degli ingredienti della quantità di un determinato ingrediente utilizzato nella preparazione dell'alimento. Per esempio, la quantità deve essere indicata in valore percentuale, calcolata al momento del suo utilizzo e non sul prodotto finito. È subito dopo il nome dell'ingrediente evidenziato. Quindi, taralli al sesamo, e qui abbiamo scritto sesamo, quindi bisogna indicare esattamente quanto ne mettiamo. Se avessimo scritto taralli solamente, chiaramente già il consumatore non veniva indotto a pensare ai semi di sesamo, quindi non c'era di indicare percentuale. Allora, in questo caso ingredienti farini di grano tenero, tipo zero, oli di sansa, semi di sesamo, abbiamo detto di sesamo, quindi devo indicare la percentuale. in quanto il consumatore poi deve poter confrontare a parità di costo più prodotti sullo scaffale. Sale, lievito di birra. L'indicazione del quid di obbligatorio nei casi in cui un ingrediente viene posto in evidenza, come è fatto in questo caso. Se l'ingrediente o la categoria di ingredienti figura nella dominazione di vendita, o per caratterizzare un prodotto, yogurt alla fragola, succo all'arancio, io devo specificare quanti ce n'è di succo alla fragola all'arancia. Se l'ingrediente è messo in risalto con parole immagini o rappresentazioni grafiche, se viene espressamente previsto dalla normativa, per esempio nel caso della pasta all'uovo, che richiede un minimo di 200 grammi di uova per kg di semi, anche perché in questo caso poi è possibile tramite analisi risalire al numero di uova che sono state poste. In questo caso, vedete, c'è il logo, il simbolo che richiama all'ingrediente, quindi deve essere specificata, fiocca di avena 33, farina di frumento integrale 33, zucchero sciroppo, glucosio, eccetera. La regola del quid vale anche per ingredienti composti, nel caso di buffer con crema di nocciole, ad esempio la lista degli ingredienti deve riportare la percentuale di crema di nocciole contenuta, ovviamente perché l'ho richiamata nella denominazione di vendita. Se la denominazione di vendita fa riferimento ad eventuali farciture e ripieni, ma senza ulteriori specificazioni della tipologia degli ingredienti utilizzati, ad esempio biscotti farciti, olive ripiene, pasta, non vi è l'obbligo di indicazione del quid, poiché nessun ingrediente è stato messo in risalto e non ha creato aspettative particolari nel consumatore. Perché effettivamente biscotti farciti, olive ripiene, magari c'è lo 0,1%, non ha creato aspettative, quindi non va menzionato. Oltre ai casi sopra menzionati, l'indicazione del quid è sempre obbligatoria per quelle tipologie di prodotti destinate al mercato comunitario e per i quali esiste una denominazione regolamentata che differisce da quella nazionale, ma che identifica gli stessi prodotti. Riprendendo l'esempio già citato, della bibita aranciata, poiché la quantità di succo d'arancia varia da paese a paese, l'indicazione della quantità di succo utilizzato diventa obbligatoria. Modalità di indicazione per particolari tipologie di ingredienti. Allora, approfondiamo ora le modalità di indicazione di particolari tipologie di ingredienti. L'acqua, come altri ingredienti volatili, utilizzata per la preparazione di un alimento, non deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti. se rientra in uno dei seguenti casi, rappresenta meno del 5% di peso del prodotto finito, rappresenta il liquido di governo o di copertura di un prodotto vero, quello che non viene consumato. nelle bevande alcoliche, in quanto la presenza di acqua è determinata dalla differenza tra la quantità totale di bevande e il titolo alcolometrico. E non va menzionata per la ricostituzione di un ingrediente concentrato, liofilizzato e disidratato, per esempio il latte in polvere. Queste eccezioni non valgono per gli ingredienti volatili di natura alcolica, quali vini, spumanti, distillati e via dicendo, che devono essere sempre menzionati in etichetta. additivi. Gli additivi alimentari sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto. Gli additivi per usi alimentari che quindi vanno indicati sono, vediamo la tabella, acidificanti presenti, menzionati, addensanti, vanno a dimensionare agenti di carica, agenti di resistenza, agenti di vestimento, lievitanti, modificati, amidi modificati, antiagglomeranti, antiossidanti, anti-spinogen, questi vanno menzionati sull'etichetta, obbligatoriamente. Nel caso A, per esempio, antiossidante, E300, oppure antiossidante, acido ascoltico, o lo si riporta come in codice, lettere, oppure complessivamente, antiossidante, acido ascoltico. se parla di chiarezza, all'inizio parlava di non usare codici che possano trarre in inganno, ma chi sa che l'antiossidante E300 sia l'acido ascoltico? Eh, lo so. Cioè, comunque è una cosa tra virgolette ingannevole che la Comunità Europea consente. Sì, è vero, però, effettivamente uno però deve conoscere che esistono, quelle E300 significa un'antassidante, che è un additivo che è stato aggiunto, e quindi volendo può andare a vedere di che cosa trattasi. altrimenti... O altrimenti... Eh? Sì. Oppure, oppure, ancora, caso A, ancora gente di vendendo carbonate di sodio, carbonate di acidi di ammonio. Caso B, ancora, ci sono tre addensanti, E1422, E410, Sì, questa è una parte ancora un po' sì, nebulosa. Se un additivo ha più funzionato, deve essere indicato unicamente quella principale. Per esempio, in alcuni paesi è possibile indicare gli additivi con dei sinonimi, il soda, al posto di E500, o di carbonate di sodio, che è la stessa che in Italia. Tale possibilità è prevista solo per la commercializzazione del prodotto, ma non per la sua designazione nella lista degli ingredienti. Certo, le modifiche più recenti apportate relativa agli additivi, il decreto dispone che i nitriti possono essere ammessi nei prodotti a base di carne a prescindere dal loro trattamento subito. Per esempio, i nitrati invece possono essere indicati solo nei prodotti non trattati termicamente, mentre in precedenza potrebbero essere ammessi anche quelli in scatola nelle conserve in genere. Con una nota del 10 luglio del 2008 il Ministero della Salute ha fatto anche fissate quantità di massimi ammessi per quelli additivi, ovvero 150 mg per chilo, se i nitriti sono utilizzati per i prodotti a base di carne, invece la soglia è di 100 mg al chilo. Qui va beh, indica il tipo di possibilità di utilizzo di alcuni ingredienti. Inoltre, i gas, per esempio, utilizzati per il confezionamento dei prodotti alimentari, azoto, elio, idrogeno, via dicendo, pur essendo degli additivi, attenzione, non vengono considerati ingredienti e quindi non soggiacciono ai requisiti, quindi all'obbligo di indicazione. L'unico obbligo previsto è riportare la dicitura confezionata in atmosfera protettiva. Per gli edulcoranti esistono più poi ulteriori condizioni di applicazione in caso di utilizzo senza zuccheri aggiunti, senza zuccheri a ridotto contenuto calorico. A seconda poi, naturalmente, della quantità che è stata aggiunta. Giova, adesso, fare una precisazione sul termine zucchero. Quando si parla di zucchero può essere indicato solo se è stato utilizzato il saccarosio, quello che mettiamo nel caffè insomma. E le soluzioni è una cosa di saccarosio. Qualora vengono utilizzati i zuccheri diversi da saccarosio deve essere riportato il termine zuccheri. Per esempio, quando si utilizza il frutto osseo va messo l'addizione di zuccheri. allergeni per indicare la presenza eventualmente di allergeni, diamidi, di aromi. Gli aromi possono essere indicati in etichetta in uno dei seguenti modi. Aromi che può essere utilizzati per qualsiasi forma di aromatizzante naturale, artificiale o naturale identico. Con il nome specifico ad esempio vanilina con una descrizione dell'aroma ad esempio estratto di erbe alpine. L'aggiunta della menzione naturale è riservata solo agli aromi alla cui parte aromatizzante contiene o viene ottenuta esclusivamente da sostanze naturali con procedimenti naturali per esempio la distillazione l'essiccamento e la fermentazione. La miscelazione di aromi di origine naturale con quelli di origine artificiale non consente l'utilizzo di questa aggettivazione perché giustamente è stata aggiunta di quella artificiale e pertanto l'aroma dovrà essere menzionata in richiesta come riportata nei casi A, B e C. Ancora la loro menzione quindi caffeina e chinino deve essere riportata in richiesta subito dopo il termine aroma composto di chinino o eocaffeina inoltre per i soli prodotti liquidi perché c'è tutta la vasta produzione e messa su commercio di prodotti a base di caffeina le coca o cole eccetera eccetera inoltre per i soli prodotti liquidi quando è contenuta la caffeina superi 150 mg litro è obbligatorio riportare nello stesso campo visivo notate bene della denominazione di vendita la specifica tenore elevato di caffeina seguita dall'indicazione tra parentesi del relativo quantitativo calcolato l'obbligo non si applica la bevanda a base di estratto di caffè e tè la cui denominazione di vendita contenga il termine caffè o tè carne e prodotto a base di carne le carni impiegate nella preparazione di prodotti alimentari possono essere indicate in due diverse modalità con il nome della parte anatomica interessata petto coscia suina con la digitura carne o carne seguita dal nome della specie animale per esempio carne bovine è da precisare che il legislatore comunitario ha le disciplinate di questi ingredienti carne ovvero i muscoli degli animali comprensivi di una determinata quantità di grasso e tessuto connettivo qui viene riportato per esempio carne suina significa 30% di grasso con un 25% di tessuto connettivo carne volatile e conigli 15% di grasso e 10% di tessuto connettivo altri mammiferi 25% e 25% se tali limiti vengono superati il contenuto di carne si riduce e per tante in etichetta dovrà essere indicata la percentuale di grasso o del tessuto connettivo poi se la separazione di carne è stata effettuata meccanicamente devono essere designate con apposita dimensione che faccia esplicito riferimento al loro metodo di ottenimento per esempio carne di suino separata meccanicamente nel caso in cui la dicitura sia attribibile a diverse tipologie di carne utilizzata nell'impasto questo può essere riportato una sola volta alla fine dell'elengo degli ingredienti purché accanto agli ingredienti fa riferimento sia un posto o un asterisco che richiama la dicitura inoltre deve essere sempre riportata alla stessa grandezza utilizzata dall'elengo degli ingredienti per esempio bastoncini di pollo con panatura ai fiocchi di frumento ingredienti carne di pollo 27% carne di pollo separata meccanicamente pangrattato farina di grano tenero acqua fiocchi di frumento perché l'avevo menzionata sopra lo devo ricordare la percentuale e poi sale, olio vegetale e aroma connettore correttore di acidità acido citrico devo specificare di che tratta nei prodotti di salumeria è frequente l'etichetta puro pura riferita alla carne pura carne suina può essere usata solo se la carne suina è impiegata nel prodotto rispetto al percentuale di grasso di cui sopra avevamo visto puro suina invece è una dizione che può essere attribuita a un prodotto realizzato interamente con carne carne suina ovvero che non contiene carne proveniente da altre specie animali crepes al prosciutto cotto latte scremato farine di grano tenero prosciutto cotto l'11% perché l'ho richiamato in un'azione di vendita ingredienti cosci di suina acqua destrosi aromi nitrito di sodio in questo caso noi abbiamo il prosciutto cotto che in realtà è un ingrediente composto e quindi devo menzionare nell'11% ingredienti cosci di suina acqua destrosi aromi nitrito di sodio poi ci sono oli di semi di girasole amidi di frumento sale aromi naturali farine in caso di misceli di farina diverse tipologie queste dovranno essere menzionate nella lista di ingredienti in ordine ponderale sempre caso A farina di avena farina di frumento e farina di segale farine e io devo dire frumento di avena segale in proporzioni variabili se queste sono presenti in proporzioni non ben definite formaggi le miscelle di formaggio devono essere menzionate in etichetta con i termini generici di formaggi se nessuno è preponderante l'una sull'altra o se nessuno rappresenta un ingrediente caratterizzante allora io dovrò scrivere per esempio sotto c'è l'esempio ingredienti acqua a formaggio gorgonzola quindi siccome ho scritto salsa al gorgonzola devo menzionare quanto nell'ipotesi in cui invece purè di patate al formaggio ingredienti patate al formaggio 5% burro e sale proprio perché l'ho menzionato nella denominazione di vendita devo specificare evidentemente la quantità frutta candita la frutta candita deve essere menzionata in etichetta non come termine generale ma specificando la tipologia di frutta impiegata cedro arancia mela 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 di frutta di frutta di frutta di frutta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.